Vi presento la nostra sede, la sede di Livorno in Comune, una lista civica ma sotto il cappello d'Italia in Comune, ci tengo a sottolinearlo perché per noi Federico Pizzarotti è un grande esempio. Oggi inauguriamo la nostra sede che è un po' un esempio di quello che siamo, semplici, questo piosco era un'edicola e adesso è stato trasformato in questa sede elettorale, il cittadino può venire tranquillamente a parlare con noi, a chiedere informazioni ma soprattutto abbiamo una domanda per voi tutti e cioè che cosa vi aspettate da questo sindaco, che cosa secondo voi deve avere come caratteristiche principali. Ci teniamo tantissimo alla risposta a questa domanda perché è un po' quello che vogliamo fare, rappresentare il Livornese medio. Ringrazio tantissimo chi ha reso possibile questa cosa e sono i ragazzi che vedete qua dietro, Lucarelli, Puccetti, Alderoni che sono il cuore di questo magnifico progetto, che ho sposato in pieno e spero di onorare al meglio. Grazie a tutti per essere Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.